Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6, in apertura ci occupiamo di lavoro, la crisi occupazionale gravissima nell'intera provincia di Teramo con l'allarme di CGL, CISL e UIL che chiedono alla politica di indirizzare i fondi del recovery plan sul lavoro, le infrastrutture e la formazione per cercare di rilanciare il tessuto produttivo del territorio. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Oggi abbiamo un'occasione storica. Un'occasione storica e nell'occasione storica bisogna in qualche modo fare massa critica, fare sistema. Noi diciamo che bisogna mettere in campo una governance che analizza la realtà di questo territorio e prova comunque sia poi a costruire una progettualità che non solo è digitalizzazione, quindi modernizzazione, non solo è transizione ecologica. Ci dicono inclusione e poi dicono una cosa aggiuntiva. Ogni progetto deve in qualche modo misurare, saper misurare, quindi non basta solo il progetto faccio il ponte, faccio un esempio, no, deve saper misurare veramente qual è in qualche modo il vantaggio che ne hanno i giovani, che ne ha la coesione sociale e che ne hanno anche le donne. Quindi questi sono indirizzi che a nostro avviso devono in qualche modo essere sempre sottolineati e ricordati in ogni pratica con progettuale. Per quanto riguarda poi la qualità della vita, Teramo è anche l'ultima provincia della regione Abruzzo. È al 76esimo posto con 20 posizioni in meno rispetto al 2019. Quali sono le vostre proposte, ma le più importanti per poter superare questa crisi sul lavoro soprattutto? Noi vogliamo vedere fatti delle opere, tipo le infrastrutture, rivedere la sanità, avere la possibilità di rilanciare un'industria, specialmente una van vibrata che sta soffrendo enormemente. Così come abbiamo bisogno di formazione e di digitalizzazione che diventa il futuro di questa realtà. Qual è la posizione della CISL in questo momento di crisi? È una posizione che mira intanto a valorizzare tutto quello che ruota intorno alla formazione, che mira a riqualificare tutti coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro e purtroppo in questa provincia e soprattutto in alcune zone di questa provincia ne abbiamo diverse centinaia. Quindi dando una formazione che miri a ricollocare, una formazione che miri a riqualificare, una formazione che dia la possibilità a coloro che ancora operano all'interno del mercato del lavoro di non correre i rischi che hanno purtroppo vissuto altre persone in precedenza. Si tratta di farsi trovare pronti con quelle che sono le nuove sfide, con la digitalizzazione. Per poterlo fare bisogna appunto avere le conoscenze e le capacità adeguate. Continuano le ricerche dei quattro dispersi che nella giornata di domenica 24 di gennaio erano partiti da Massadalbe per una escursione sul Monte Velino. La valanga recente, il forte vento e la presenza di accumuli di neve fresca rendono molto difficoltose le operazioni da parte dei soccorritori. Proprio nelle ultime ore si è tenuto un tavolo tecnico per cercare di studiare una strategia di accesso all'area di ricerca da parte di tutti i soccorritori, vigili del fuoco, carabinieri, esercito, soccorso appino e volontari della protezione civile regionale. Approfittando delle condizioni meteo migliorate nelle ultime ore sono in volo tre elicotteri, quello del 118 partito da Preturo, uno della Guardia di Finanza arrivato da Pratica di Mare e uno dei vigili del fuoco di Pescara. Far scendere uomini, cani e attrezzi consentirebbe di abbreviare i tempi e limitare i rischi. L'area dove si concentrano le ricerche si trova a 10 chilometri a piedi dal campo base di partenza. Escluso l'uso di un escavatore, la valanga dovrà essere perlustrata e scavata a mano con l'uso delle epale. Vedremo nelle prossime ore se saranno ritrovati i quattro. Ieri era stato agganciato un segnale del telefono dall'elicottero arrivato da Pratica di Mare, ma poi le condizioni meteo avverse hanno così limitato l'azione dei soccorritori che sono dovuti tornare indietro al campo base proprio per evitare rischi maggiori. Sono in arrivo altri 20 soccorritori intanto e anche delle unità cinofide. Proseguiamo con la cronaca. Sottoposto a sequestro preventivo nel Terramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva. Nelle ultime settimane si era generato un focolaio Covid-19 nella struttura che ha riguardato una ventina di persone tra ospiti, quasi tutti contagiati e personale. Poi sono morte anche quattro persone. Vediamo il servizio. È stato il focolaio di Covid-19 a consentire a Enas di Pescara di scoprire una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori addirittura erano inquadrati come dei braccianti agricoli. Per la struttura di Castellalto, denominata Fattoria Sociale, è scattato il sequestro preventivo di due immobili al termine delle indagini coordinate dal PM della Procura di Terramo, Davide Rosati. Nella struttura del Terramano, come detto, sono state registrate positività sia tra il personale addetto all'assistenza che tra gli ospiti con quattro decessi riguardanti due uomini e due donne, uno dei quali di 51 anni, avvenuti negli ospedali di Terramo e Giulianova. Nel corso delle indagini è stato accertato che al posto della dichiarata Fattoria Sociale vi era di fatto una residenza per anziani, peraltro non autosufficienti e con disagi psicofisici. Il personale addetto all'assistenza per di più era privo delle specifiche qualifiche assistenziali e non appartenente ad alcuna delle professioni sanitarie. Dopo l'intervento dei carabinieri, gli ospiti sono stati tutti trasferiti in altre strutture sanitarie idonee. Portiamo pagina. Dopo i tamponi rapidi effettuati ai cittadini nel weekend appena trascorso, a San Salvo ci si prepara ad effettuare lo screening Covid anche sulla popolazione studentesca. I test prenderanno il via domani. Vediamo il servizio. I risultati che abbiamo ottenuto saranno sicuramente completati da questa operazione importante su quella fascia della popolazione a cui teniamo in particolar modo. Dopo aver concluso la prima fase dello screening di massa per il Covid-19 a San Salvo con 5.807 cittadini che hanno effettuato il tampone e 13 test positivi da accertare attraverso i molecolari, da domani si darà il via ai test sulla popolazione studentesca in collaborazione con la Presidenza dell'Ommincomprensivo della città. Domani cominceremo con via Scopelliti e lo screening sarà per tutti gli studenti che frequentano il plesso di via Scopelliti. Giovedì saranno interessati i due plessi di via De Vito e di via Melvin Jones, ovviamente solo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, mentre venerdì e sabato toccherà agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, quindi del liceo, dell'ITE e dell'istituto professionale. Tutti i test si svolgeranno presso le palestre dei plessi, dove allestiremo tre punti di accettazione, con ovviamente il supporto del personale medico dell'ASL e del personale amministrativo della scuola, che ringrazio. La partecipazione volontaria, come spiega il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che però invita i genitori degli studenti a firmare il consenso informato affinché si possa procedere ad effettuare il maggior numero di tamponi possibile agli studenti. Una fotografia importante che deve essere scattata anche nelle scuole, non solo perché la popolazione scolastica è una popolazione a cui teniamo tutti, ma anche perché per fortuna nella nostra città è abbastanza corposa. È un atto di responsabilità e di civismo nei confronti della propria comunità scolastica, della propria comunità cittadina e della propria famiglia. Per quanto riguarda Bussi, la Lega presenterà a breve una interrogazione rivolta al ministro Costa rispetto alla vicenda della mega discarica Montedison. Ad annunciarlo è stato il deputato Vagna Gava, coordinatore del settore ambiente della Lega, in una conferenza stampa che vedete che si è svolta all'Aquila, alla quale hanno partecipato deputati europarlamentari ai vertici della Lega abruzzese. Secondo Gava, l'annullamento del bando di bonifica delle discariche Montedison predisposto in autotutela dal Ministero dell'Ambiente con i vari ricorsi amministrativi che si stanno succedendo non è un groviglio burocratico ma un ritorno indietro. Si è perso tempo mentre bisogna bonificare e poi reindustrializzare. Ha proseguito Gava, che ha detto anche che il governo ha perso tempo e il Movimento 5 Stelle ha fatto campagna elettorale prima promettendo la bonifica, poi revocando l'assegnazione dei lavori. La Lega continua ancora il comunicato, a prescindere dalle questioni di governo, promette di essere presente sulla vicenda e di far in modo che si sblocchi al più presto. Andiamo avanti, ci spostiamo a Chieti sulla questione del progetto Chieti Open Heritage. Il vice sindaco del capologo Tiatino, Paolo De Cesare, ha attaccato il centrodestra e il candidato a sindaco alle ultime elezioni, Fabrizio Di Stefano. Vediamo perché nel servizio di Paolo Renzetti. Sulla vicenda relativa al Chieti Open Heritage riguardante il progetto con fondi europei di riqualificazione e di valorizzazione culturale del Palazzo Massangeli e dell'ex Cinema Eden, il vice sindaco e assessore alla cultura, Paolo De Cesare, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa presso il foyer del Teatro Marrucino, polemizzando con il centrodestra e parlando di un atto grave e a danno della città e preannunciando anche azioni legali a tutela dell'immagine di Chieti. Oltre che l'ex candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, diciamo che riguardano un danno subito, cagionato all'amministrazione comunale di immagine, oltre che di mancata chance, un danno veramente molto rilevante, considerati anche i partner che erano presenti in questo progetto, tra i quali spiccava anche l'università con il professor Trinchese. Il comune di Chieti è stato oggetto di truffa, di frode, sostanzialmente, perché si continua a dire che arriveranno 6 milioni di euro di finanziamenti relativamente alla valorizzazione e alla riqualificazione del Palazzo Massangeli e l'ex Cinema Eden per il progetto Open Heritage dell'UIA, al segretariato di Lille della Commissione europea, ci è arrivata la risposta ufficiale, abbiamo sentito il segretariato e ci è arrivata la risposta ufficiale con una relazione, il comune di Chieti non ha mai partecipato a questo bando, nonostante ci sia stato un lavoro importante con un incarico dell'amministrazione Di Primio, una delega dell'ex sindaco Di Primio, il quale ha delegato ad agire in nome per conto dell'amministrazione relativamente a questo progetto, la dottoressa Scogna Miglio. Bene, il comune di Chieti non ha mai partecipato, il progetto non è stato mai valutato, c'è stato un inizio di registrazione che ha sviluppato un codice e poi non ha mai inviato neanche la proposta di progetto. Noi tuteleremo lente con il segretario generale, con l'avvocatura del comune e ci saranno anche immagino delle costituzioni di parte civile, perché il fatto è molto rilevante, squalifica chi ha agito veramente in questo modo. Mi meraviglio dell'ex senatore Di Stefano, che continua a dire, lo ha detto fino all'altro giorno in Consiglio Comunale, nonché anche nella conferenza stampa dei 100 giorni, ma tra l'altro lo ha scritto prendendo in giro 50 mila cittadini di Chieti, perché ha inviato la lettera a tutte le famiglie teatini, a tutti i cittadini teatini, dicendo che lui già aveva concretizzato un finanziamento di 6 milioni di euro, in realtà non è vero nulla assolutamente, abbiamo la riprova di questo e quindi non potendo pensare e dubitare che ci sia una collusione da parte del senatore Di Stefano, perché è lungi da me pensare una cosa del genere, però comunque è sinonimo del fatto che è stato molto ingenuo il senatore Di Stefano, è caduto con tutte le scarpe in questa vicenda e quindi meno male che l'abbiamo sfaltato nella competizione elettorale e oggi non è sindaco di Chieti, altrimenti c'erano danni bisognava preoccuparsi relativamente al comune per una gestione sua, perché voglio dire se è caduto con tutte le scarpe in questa cosa, tutta questa esperienza che si vantava probabilmente non c'è. I residenti delle palazzine Ater di Villa Vomano di Teramo chiedono interventi urgenti sugli stabili che sono diventati fatiscenti e pericolosi. L'altra sera è caduto un altro pezzo di cappotto, abbiamo tutte le fognature scoperte, abbiamo le buche, non so perché ci trattano così. L'ennesima storia di degrado ed incurio all'interno di palazzine Ater arriva da via Borgognoni di Villa Vomano, frazione del comune di Teramo. Buche lungo la strada, illuminazione pubblica che manca, pezzi del rivestimento termico a cappotto sparsi ovunque, infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti che man mano diventano insalubri per la presenza della muffa. Una situazione anche di pericolo per l'incolumità di persone e soprattutto bambini, intollerabile in un paese civile nel 2021, della quale alcuni residenti chiedono alle istituzioni di farsi carico. In queste palazzine costruite qualche decennio fa vivono una trentina di famiglie che si sentono abbandonate e alle quali sono arrivate solo generiche rassicurazioni e qualche transenna per allontanare i residenti dalle zone di pericolo. Sono venuti a fare i sopralluoghi parecchie volte a vedere questa palazzina che più passa i giorni più cade e io voglio che vengano ad aggiustare perché loro i soldi li prendono, morosa non sono e se non pago mi danno lo sfratto. Voglio e pretendo che vengano ad aggiustare questa palazzina. Io ho dei figli anche minori, si vergogna a far venire i compagni suoi della scuola vedendo questa palazzina schifosa, orribile. Per favore intervenite e mi rivolgo anche al sindaco di Teramo e mi rivolgo anche al presidente dell'Ater, la Ceci, che venga a fare un sopralluogo più presto possibile. Ci spostiamo a Francavilla dove questa mattina nei pressi del distretto sanitario c'è stata una protesta di alcuni cittadini di un comitato spontaneo che chiede la riapertura del consultorio chiuso ormai dal mese di marzo. Vediamo. Dal 30 marzo scorso il consultorio di Francavilla al mare è chiuso, c'è un comitato spontaneo che è nato nelle ultime settimane, oggi state manifestando per chiedere la riapertura immediata. In realtà i primi incontri risalgono al 20 luglio, poi ci siamo visti a ottobre, abbiamo ricevuto diverse promesse da Thomas Schell che il consultorio avrebbe riaperto a settembre e così non è stato, poi a dicembre non è stato, adesso l'assessore Veri dice che riaprerà a metà febbraio. Noi siamo qui e non possiamo arretrare. Avere un consultorio a Francavilla vuol dire avere un'assistenza psicologica accessibile, avere un'assistenza ginecologica, avere il pediatra, fare screening per il tumore al collo dell'utero, il pap test, c'è stato un vertiginoso calo di questi screening che vuol dire che ci sono donne a rischio. Ci tengo a precisare una cosa, non riguarda solo Francavilla, riguarda tutti i paesi limitrofi che si servivano del consultorio di Francavilla e che adesso non c'è più. Oggi chi si serviva fino a qualche mese fa di questo consultorio dove deve andare? Adesso deve andare a Chieti, in un periodo in cui ci chiedono o di restare dentro casa o di non uscire dal nostro comune, si rischia di creare assembramenti in quelli che sono gli uffici di Chieti e anche di contrarre il Covid. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Adesso lo sport. Nella giornata di ieri Giovanni Galeone ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno. Intervenuto nel corso della trasmissione Replay, il profeta ha trattenuto a stento le lacrime per le grandi testimonianze di stima e di affetto ricevute dai tifosi del Pescara. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. È stato travolto dalle emozioni Giovanni Galeone, l'allenatore più vincente a Pescara e soprattutto il più amato dai tifosi pescaresi. Simbolo di una epoca di una Pescara splendente sotto il profilo sportivo e non solo. L'uomo che più ha saputo emozionare i tifosi biancazzurri. Emozioni che gli sportivi hanno contraccambiato ieri, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Tante le persone che sui social hanno dedicato un pensiero al profeta, sommerso dagli auguri e poi telefonate e poi interviste sui maggiori quotidiani sportivi nazionali. Perché oltre ai risultati del campo, per tanti addetti ai lavori, per tanti calciatori, è stato un vero e proprio maestro. Dopo 35 anni Galeone, causa pandemia, non ha trascorso il suo compleanno a Pescara, ma ad Udine, dove, collegato ieri sera nel corso della trasmissione replay, a Stento ha trattenuto le lacrime, commosso da tale incontenibile dimostrazione d'affetto verso di lui. Cosa vuoi che ti dica Enrico? Io non me l'aspettavo. Tutto questo bene, questo amore che mi stanno dimostrando, veramente non me l'aspettavo. Lasciamo perdere i giornali nazionali e quello che hanno scritto di me, eccetera. Ma quello soprattutto che mi hanno fatto sentire da arrivare da Pescara, io credo che le persone che hanno amato possono capire questo. Perché l'amore si sente quando c'è. Però se ti commuovi tu stasera Giovanni è la fine, se ti commuovi tu qui cominciano le lacrime. No, per carità. Però è una cosa che si sente Enrico, è una cosa che si sente. Io sono stato felice in tantissime città dove ho allenato, perché mi vogliono bene a Perugia, a Ferrara poi mi fanno le ovazioni e non ho vinto niente a Ferrara, a San Giovanni Valdarno, a Grosseto, mi vogliono bene. Però l'amore che io sento quando arrivo a Pescara e anche quando non ci sono a Pescara, è una cosa stranissima. È una cosa che è unica, che ti devo dire. Io amo Pescara sicuramente, però non avrei pensato che dopo tutti questi anni ci fosse ancora questo spese proprio di affetto verso di me, che è più di affetto, è ancora più che affetto. Che abbiano ancora un ricordo di te è una cosa che non capita sempre, diciamoci la verità. Poi non mi emoziono più, ci siamo già emozionati e state facendo vedere delle immagini stupende. Così si vede che abbiamo lasciato dei ricordi forti, delle emozioni forti. Ci siamo tanto divertiti. Io quando tu mi hai intervistato e hai lasciato le ultime parole su quel libro che poi hanno scritto di quella famosa e favolosa annata, hai scritto una cosa, eravamo belli, ma noi continuiamo a essere belli. E allora continuiamo a parlare del Pescara. Nel pomeriggio si allenerà al centro Vestina di Montesilvano per preparare la trasferta di domenica a Verona dove giocherà contro il Chievo. Sul fronte mercato in giornata è attesa l'ufficialità dell'arrivo in prestito dal Monza di Nicola Rigoni. Si lavora anche alle uscite offerte in arrivo per Maestro e Crecco, ma non si escludono anche le partenze di altri profili come Busellato o Valdifiori. Vediamo. Fare i puntati sul centrocampo del Pescara in queste ultime giornate di calcio mercato, Roberto Breda avrà a disposizione Nicola Rigoni, trentenne originario di Schio nel Vicentino, cresciuto nelle giovanili del Vicenza dove ha anche giocato in prima squadra, allenato all'epoca proprio da Breda. Rigoni ha anche un trascorso in Serie A, quattro stagioni, 79 presenze e quattro gol con il Chievo più altre quattro apparizioni, appena ventenne, con la maglia del Palermo. Nella sua carriera ha anche indossato le divise di Regina e Cittadella. La scorsa stagione l'approdo nell'ambizioso Monza in Serie C, un infortunio muscolare dopo la prima partita, il ritorno dopo un mese e mezzo per mettere insieme 14 presenze e due gol prima dello stop al campionato per la pandemia. In questa stagione è finito ai margini nelle gerarchie del tecnico Brocchi, una presenza da 5 minuti in campionato e una da titolare in Coppa Italia. Regista o mezzala di buona struttura fisica e con un buon tiro sarà un rinforzo per la mediana. Il fratello Luca, 36enne, milita nel Vicenza. Altro giocatore finito nel Merino del Pescara è il gigante Andrea Tabanelli, mezzala in forza al Fosinone, che è andato in gol proprio sabato scorso contro la Regina dopo essere subentrato. Il Pescara si è informato ma la sua partenza non è così certa. Il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti sono anche al lavoro per sfoltire. Sembrava scontata la partenza di Massimiliano Busellato e invece il mercato fa registrare richieste su altri due profili, Luca Crecco e Fabio Maestro. Crecco, di proprietà del Pescara, è appetito dal Cosenza. Il giocatore, scuola Lazio, già finito ai margini nell'era Oddo, sembra di nuovo fuori dai piani, anche nella gestione Breda e potrebbe decidere di cambiare aria. Su Fabio Maestro, che è di proprietà della Lazio, si è fatto avanti il Venezia, che ha intenzione di riportare a casa la mezzala di Portotolle. Valutazioni sono in corso in Casa Pescara, che non vorrebbe privarsi di Maestro, ma il rendimento da tempo in flessione e gli arrivi di Macin e Rigoni possono chiudere spazi all'ex Salernitana. Valutazioni in corso anche per Valdifiori, un girone d'andata deludente e non si escludono sorprese da qui alla fine del mercato. In difesa, momento di impasse dopo il mancato arrivo di Pirola, che ferma anche l'uscita di uno tra Scognamiglio e Iarosinski. Situazioni in stand-by anche per Alessio Riccardi e Cristian Capone. Se Roma e Atalanta non avranno offerte da altri club, i due giocatori, ai margini della rosa, resteranno sul groppone del Delfino. E adesso il Teramo, che è vicino alla firma con il centrocampista offensivo classe 2002, Luca Lombardi. Cresciuto nelle giovanili dell'Ancona, il giocatore si è messo in evidenza in Serie D con la maglia della Re Canatese per poi essere ceduto al Monza nel gennaio del 2020. Da giorni Lombardi si sta allenando col Teramo. L'operazione va in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Teramo e di controriscatto per il Monza. Dopo il giorno di riposo di ieri, la squadra invece tornerà ad allenarsi nel pomeriggio per preparare il match di sabato con la vicecapolista Bari, che avrà in organico l'ex Pietro Cianci, il giocatore che è ancora di proprietà del Teramo, sta chiudendo anzitempo il prestito al Potenza per trasferirsi alla corte di Gaetano Auteli. Ora la D, il centrocampista Marco Croce è stato il match winner nel 2-1 che il Castelnuovo ha rifilato alla Re Canatese. L'ex giocatore del Giulianova si è detto soddisfatto della scelta di aver sposato il progetto della matricola tornata capolista del Girone F di Seretti. Vediamo il servizio di Stefano Re Canati. Raccontaci la gioia di questo gol perché è fondamentale, perché è arrivato in un momento difficile della gara ed è arrivata quando a Castelfidardo il risultato è diventato di barità tra Castelfidardo e Fius e Scusarietti e si è tornati avanti. Sì, ma a prescindere dal risultato degli altri, che ti dico la verità, vediamo e non, nel senso che non dobbiamo pensare a noi. È davvero un risultato importante per noi perché è arrivato contro una grande squadra, ma soprattutto per come è arrivato. Penso che fino al novantesimo abbiamo creduto a questa vittoria, quindi siamo stati bravi a crederci. Anche io su quella palla speravo che Rosario Di Ruocco facesse proprio quello ed è arrivata proprio lì. Sono contento. Come si è trovato a Castelnuovo? Credo bene perché si vede anche dalle tue partite in mezzo al campo. Sì, molto, molto bene. Sono contentissimo e si è visto subito che questo è un gran gruppo, l'abbiamo notato subito, sono riuscito a inserirmi e sono stati bravi ragazzi a farmi inserire in maniera così in fretta e quindi non potevo fare scelta migliore. 25 punti in classifica, ne mancano sempre pochi, fa la salvezza e poi chissà. Sì, hai detto bene, non sono frasi fatte, quello è il nostro obiettivo. Con questo non dobbiamo nasconderci che se riusciamo ad ottenere il prima possibile poi dobbiamo essere bravi a toglierci ulteriori soddisfazioni. In fuori casa un ruolino di marcia stratosferico, in casa qualche risultato un po' altanelante, ma la vittoria di oggi contro una scuola, pretendente al titolo, vi dà fiducia. Sì, 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 molto fiducia, molta fiducia. Se non siamo stati a volte fortunati in casa, abbiamo subito dei gol che magari potevamo evitare, però alla fine la ruota gira e magari ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto in precedenza. Quindi siamo contenti, dobbiamo solo continuare su questa strada che è la strada del lavoro e del sacrificio. Il TG6 termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento è alle ore 19. Vi ricordo anche questa sera alle 21 Proteramo, condotta da Jacopo Forcella. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.